Una dinamica ancora tutta da ricostruire, l'unica certezza è il tremendo schianto avvenuto poco dopo l'una della scorsa notte in via Piovega a Paderno del Grappa. Scontro frontale tra due auto con cinque persone ferite tra queste tre ragazze di 24 e 25 anni. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Asolo e il SUEM, con i feriti trasportati negli ospedali di Castelfranco e Montebelluna. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Ma la lista degli incidenti nella marca non è finita. In mattinati infatti, lungo la strada che collega Mogliano Verito a Gardigiano di Scorzè, altro schianto tra due vetture ferite in modo serio la conducente di una delle auto coinvolte.